Ciao amici, oggi parliamo di D-Landog, ma non vado a recensirvi perché ancora lo devo leggere, l'ultimo numero e poi non rimase nessuno, il 440, ma vado a recensirvi un numero del 1989, esattamente il numero 31 Grand Guignol, uscito nell'aprile del 1989. Questo numero fa parte sempre di quei numeri che sto pian piano recuperando, gli originali, quindi della fascia 1,41 con copertina di Claudio Villa. Questa copertina è molto teatrale, appunto con questo fantasma che si tiene in questa testa, con un D-Land alle spalle, quindi molto bella, molto proprio villiana si potrebbe dire. Ecco che volevo dire, questa storia è stata scritta e sceneggiata da Tiziano Sclavi, fondatore e creatore del personaggio, e disegnata da Luigi Piccato, un povero Luigi Piccato che è venuto, insomma, a mancare un altro tra i miei disegnatori preferiti, insieme a Giovanni Freglieri e Corrado Roli. La storia io non me la ricordavo molto, una storia molto dilaniata, molto sclaviana, in cui appunto il protagonista è questo teatro, il Grand Guignol, un teatro che appunto proprio per l'occasione ho trovato degli appunti che ve ne voglio parlare. Allora, praticamente, prima dicendo qualcosa sulla storia, abbiamo questo teatro dove, praticamente, ci sono, lavorano questi, degli attori al comando di Joseph Krabb, che è un punto di impresario che poi si scoprirà di essere anche il proprietario di casa di D-Land, ma non so se in questa occasione viene detto, attricamente, che lui deve pagare l'affitto. Ecco, questo qui è il personaggio Joseph Krabb. Allora, attricamente, poi, ci sono questi personaggi, ci sono due donne, una donna anziana, una donna giovane, poi vi dirò anche i nomi, un attore, un attore più anziano che viene da, diciamo, da opere maggiori, teatrali, diciamo, impegnate, quale il Giulio Cesare e l'Amleto, e abbiamo poi Sinalzo, no, come si chiama il... adesso ve lo dirò, non c'è un nome particolare, Spenalzo, Spenalzo, che è una specie, questo qui, questo sembra una specie di Frankenstein, quindi un ragazzone che non ha il dono della parola. Tricamente si indaga all'interno di questo teatro perché un coltello di scena è stato sostituito con un pugnale di scena con uno vero e quindi un attore è morto. Ci sono dei sospetti e alla fine, tricamente, qui è molto... veramente ce ne sono belle battute, le soliti battute esilaranti di Graucio, insomma, storia molto molto carina. Addirittura poi ho ritrovato, ci sembrerebbe un misto, c'è qualcosa anche di Diabolipi che a un certo punto il direttore mette una maschera, sembra una maschera di Diabolik, di Block, per, tricamente, in una scena e poi per far smascherare l'assassino. Addirittura, se non mi sbaglio, c'è anche un riferimento a... adesso lo devo trovare, se lo ritrovo c'è anche un altro riferimento, un altro... vabbè, sono molti riferimenti anche ai film proprio horror degli anni Ottanta e poi spiegherò anche perché. Ci sono... con un mitra, Daily News, sì, però volevo vedere, c'era anche un altro riferimento a un altro fumetto, che adesso però non ricordo la scena, però so che c'è, se lo ricordo ve lo dirò, altrimenti niente. allora, quindi diciamo, storia chiaramente promossa, ma tutte queste storie qua di Dylan era difficile trovarne di queste brutte, insomma, dei primi, almeno, questi primi 41, io finora, tutti quelli che ho letto, che vi ho recensito, poi ecco, non vi sto dire il finale, perché non so se qualcuno di voi ancora non l'ha letto, considerate che questo lo trovate veramente in tutte le salse, sia appunto, io l'originale, ma c'è la prima, seconda, collection book, prima, seconda ristampa, insomma, grande ristampa, si trova in tutte le salse, questa scena non la ritrovo, e va bene. Oh, che succede? Quello che però vi volevo dire, vi volevo appunto parlare un po' di questo teatro del Gran Ghignol, e proprio ho trovato, dice, non vi siete mai chiesti da dove nasce storicamente l'idea del cinema horror, soprattutto nella variante del moderno sottogenere Splatter? Siamo ormai abituati a vedere film horror che non potremmo immaginare un mondo senza horror, e quindi non ci soffermiamo a domandarci quali siano le sue origini. Avete mai sentito usare il termine granghignolesco? Scusate qui, granghignionesco? Non so mai come si pronuncia. Questa termine è molto antica, risale ai tempi del teatro Gran Ghignol, senza l'esistenza di quale il gore, che sarebbe un sottogenere dell'horror, quello che significa in inglese trafitto, quindi diciamo per farvi capire il genere, venire di 13, Nightmare, non capite quella porta, Halloween e via dicendo, quasi sicuramente non sarebbe mai esistito. Il Gran Ghignol, il nome deriva da Ghignol, o che significa marionetta, fu fondato da Oscar, scusate, Mantenier, a Parigi, e aprì nel 1897. Si basava su spettacoli che facevano uso spesso di effetti speciali sostanzialmente grossolani, imperniati principalmente sulla potenza visiva delle immagini horrorifiche, quello che poi, è stato rivolto nel secolo dopo, appunto un secolo dopo, nel cinema, quindi nel cinema degli anni 80 e 90, mettendo in scena spettacoli macabri e violenti, incentrati su sofferenze di persone innocenti, e questo è importante, era anche molto forte, sangue, torture, soprattutto torture d'elitti, infanticidi, occulti, quindi anche molto forti anche a livello di tematiche, occultismo e paranormale, scene di sesso e perversione, e a questo proposito mi ricollego anche alla live, per esempio, che avevo fatto giovedì scorso, 27 aprile, nel canale dell'amico Gaspare a Spann83, parlando proprio dei fumetti erotici, ma soprattutto di quei fumetti in cui, come era The Sad, come purtroppo c'era anche il fumetto Essam incentrato sui campi di concentramento tedeschi, ma anche altre attualità violenta, attualità nera, terror, in cui proprio c'era questa ostentazione alla perversione, a questi delitti, a queste scene di horror, gore, splatter, molto forti, molto, molto forti, e quindi basati molto sulla potenza visiva. Questi spettacoli continuo, che generalmente erano brevi, e venivano ripetuti più volte durante la serata, ebbero enorme successo, registrando ogni volta il tutto essaurito e rendendo questo genere di spettacolo famoso in tutto il mondo. Il primo spettacolo di Mettenier fu ispirato a un racconto di Maupassant e mentre uscì una storia da prostituta e un omicidio che credo che sia la... Malombra, no, Maupassant, sì, credo che sia Malombra, però non sono sicurissimo. Per l'epoca erano temi decisamente scabrosi e scatenarono le reazioni di critica e censura, che però non scoraggiarono Mettenier che continuò nelle opere successive a indagare sulla società e sui margini. Credo che sia proprio Malombra che è del 1881, credo, però non sono sicurissimo. Sì, è un romanzo che ho letto. La bella svolta per il Gran Guignol fu impressa da Max Morey che, succeduto nella direzione artistica Mettenier del 1898 cioè quindi durò Mettenier dal 1898 fino al 1914 quindi prima che diciamo ci fu lo scoppio della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, che imposse alle opere in scenato un cambiamento fondamentale passando dal mondo degli emarginati al mondo dell'orrore. Tra le opere le più significative è uno spettacolo che ebbe come soggetto un uomo realmente esistito, un certo Sergent Bertrand, la cui vicenda fu alle cronache negli anni 40 del XIX secolo per la sua morbosa curiosità per i cadaveri tanto da di sotterrare, mutilare, mangiare i corpi inizialità dei parigini quindi veramente qualcosa di orrido e di orripilante qui parliamo anche di antropofagia insomma veramente temi che all'epoca erano veramente impossibili ma credo ma sempre questi temi veramente forti. Sebbene nato in Francia e qui dopo ecco si fa riferimento appunto al numero anche 31 che è appunto ambientato a Londra il Grand Guignol raggiunse l'apice del suo successo a Londra nella prima metà degli anni 20 del secolo XX quindi del secolo scorso 1900 sotto la direzione di Joss Levy che quindi sarà riferimento a questo Joseph Krabb protagonista appunto di quell'albo mentre in Italia il Grand Guignol fu importato nel 1908 da Alfredo Sainati il teatro Grand Guignol tenne la sua ultima rappresentazione il 5 gennaio 1963 quindi durò anche abbastanza qui parliamo insomma quanto è il 1997 insomma quasi quasi 100 anni ormai il rifondese del cinema horror nel suo filone splatte rese il Grand Guignol obsoleto e lo mandò in crisi al Grand Guignol appunto fu dedicato il numero 31 di The Hand Dog di questo albo che appunto vi insomma vi ho parlato che vi ho detto non adesso mentre stavo pensando stavo riguardando niente la scena cioè questa diciamo che non era una scena era un riferimento che come quello della maschera mi ha fatto venire in mente un riferimento anche se non voluto a Diabolica le maschere c'era un'altra cosa ma non ricordo poi sicuramente come chiudirò il video mi verrà in mente di questo altro che poi chiaro che in tanti albi di The Hand Dog ci sono riferimenti sia cinematografici riferimenti letterari questo è normale ma e niente non lo trovo va bene poi il finale veramente bello veramente molto sclaviano qui diciamo albi che non avevano non c'erano dubbi però ecco devo dire anticipo solo quello che ho visto almeno da commenti e già recensioni del nuovo numero che il ritorno appunto a un tema diciamo classico con una modernità di Dylan poi ve ne parlerò quando l'avrò letto vedo che promette abbastanza bene speriamo va bene comunque niente niente è inutile andare avanti quindi questo album quindi numero 31 che ho ricoperto sono contento originale chiaramente promosso a pieni voti diciamo anzi gli do gli do un 8 non un 9 un 10 ma un 8 8 e mezzo anzi gli do benissimo perché la storia è veramente bella e poi i disegni di piccato un artista che ci mancherà veramente da sempre da ricordare con questo vi saluto e vi auguro una buona serata ciao a tutti